Saluto i nostri ospiti, saluto, buongiorno, inizio senza che vi offendiate da un nostro gradito ospite di sezione che è il dottor Angelo Iannone, che è appunto ex colonnello dei Carabinieri, ex ufficiale del ROS, con il quale oggi affronteremo tematiche abbastanza scottanti, abbastanza pesanti, di attualità, pesanti per tutti noi, sappiamo che cosa è successo appunto in Francia, tutto il mondo insomma drammaticamente rattristato per questi eventi devastanti, insomma per la nostra morale quotidiana, insomma non ci sentiamo più sicuri, insomma che cosa accade? Dottor Iannone, innanzitutto grazie per essere qua. Grazie a voi per l'invito. Che cosa accade? Le faccio subito questa domanda, poi insomma abbiamo un modo di poi dialogare. Così a bruciapelo, ma accade che ci sono sicuramente delle estremizzazioni che cominciano ad essere oramai fuori controllo, probabilmente i governi occidentali sono stati sordi agli allarmi che sono stati già lanciati tra il 2010 e il 2012 su ciò che stava avvenendo all'interno delle organizzazioni estreme, quali Al-Qaeda, con la formazione dell'Isis. Questi segnali furono indicati in maniera estremamente chiara da alcune attività investigative che sono oggetto tra l'altro di un rapporto che era stato presentato al Parlamento verso la fine del 2012, inizi 2013, quindi prima ancora che il tema diventasse caldo dall'allora comandante del ROS, il generale Ganser, ma probabilmente la gravità del problema fu sicuramente a mio modesto avviso sottostimata e oggi ne stiamo vedendo i risultati. Cosa è cambiato rispetto alle forme di terrorismo tradizionale, cioè tradizionale, rispetto a quello che conoscevamo tra l'11 settembre e oggi? Accade che non c'è più la guerra asimmetrica fatta con bombe umane, quindi fatta con kamikaze, il che rende questo fenomeno estremamente più pericoloso ed estremamente più grave perché... È una guerra più silenziosa. Una guerra più pericolosa soprattutto perché sapendo di uccidere senza dover necessariamente immolarsi e morire può essere da richiamo molto forte verso i bamboccioni, diciamo così, islamici cresciuti nel benessere occidentale, quello che sta accadendo con i cosiddetti fight, insomma quelli che sostanzialmente vanno ad addestrarsi all'estero. Ecco facendo un passo indietro, io se il nostro gabinile può inquadrare anche il libro che abbiamo, eccolo qui, Eroi silenziosi, vediamo, ah no c'è la slide, perfetto, perfetto, c'è la slide grazie allo stesso, Eroi silenziosi e Intelligence che sono due copertine di libri che lei ha pubblicato ma tornando indietro c'era anche un altro volume che era Crimini e soldi, qui lei appunto era coautore. Sì, coautore insieme all'attuale procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, avevamo scritto una parte del libro che riguardava le infiltrazioni criminali nei pubblici appalti. E adesso ci sarà, appunto in prossima pubblicazione, Toghe a luci rosse, insomma tu è un po' scottante, un po' chiaramente il suo impegno che nasce innanzitutto come impegno antimafia. Sì, ho trascorso vent'anni e più nell'arma dei carabinieri con una serie di trasferimenti, prevalentemente trascorsi tra Sicilia e la Calabria, allungo buona parte di questi anni al raggruppamento operativo speciale, il ROS, ad occuparmi di indagini di criminalità organizzata di ogni genere, quindi tradizionale o multietnica o interetnica come viene conosciuta, insomma, quella che vede sul campo diverse componenti e diverse specializzazioni. Non è stato comandante poi a Corleone, insomma? La mia prima esperienza è stata a Corleone come comandante di compagnia, avevo... Risalito le croniche, insomma, sappiamo perché. Sì, mi sono occupato delle prime indagini sul Rina e sul patrimonio di Rina con Giovanni Falcone all'epoca, io ero il suo scolaretto perché avevo soltanto 27 anni, insomma, e oggi continuo a seguire come osservatore, come studioso i fenomeni criminali e come docente di criminologia, sono temi chiaramente che continuano a trovare la mia passione, ecco, a incontrare la mia passione. Però ecco, oggi appunto a causa di questi gravi avvenimenti avvenuti in Francia che riguardano c'è l'Ibdo, appunto queste vignette incriminate, diciamo, eccetera, che adesso continuano comunque la pubblicazione e sono successi anche in questi giorni appunto... Di fatti molto gravi, sì, sì. Di fatti molto gravi, attacco, insomma, adesso non vorrei sbagliare perché... Attacchi alle chiese, alle chiese cristiane, tra l'altro... Pari di Nigeria, se non sbaglio. Insomma, quindi si è spostato in questo momento un po' l'attenzione da quello che può essere invece la criminalità, che pur c'è sempre a livello nazionale, insomma, a livello internazionale. Una criminalità che diventa non solo criminalità ma terrorista. E lei ha pubblicato degli articoli appunto in questi giorni, in gennaio, appunto su diverse testate anche online, dove appunto esprime alcuni concetti che riguardano appunto il terrorismo. Che cosa accade intorno a queste, diciamo così, chiamiamole congreghe, questi gruppi che creano appunto dopo questo terrore. Ma guardi, io vorrei fare un'analogia molto banale. La mafia a lungo si è nutrita di un sostegno culturale molto forte, quindi pensare di, ipocritamente, di separare in maniera netta quello che è l'estremismo islamico, che comunque è un terrorismo di matrice fanatico-religiosa, da quella che è una forma di sottocultura legata al credo, sarebbe un errore di valutazione estremamente grave e soprattutto un'ipocrisia culturale inaccettabile di fronte al pericolo che questi fenomeni oggi rappresentano. Però, come avevo sottolineato anche in quell'articolo, bisogna cominciare da capo, cioè cominciare prima di tutto a trovare un'unità di intenti nei paesi occidentali su quali siano i valori non negoziabili. Perché io credo che nella nostra cultura italiana non siamo assolutamente, per fortuna dico anche, allineati con una forma esasperata di laicismo per cui tutto, in nome della libertà, tutto è consentito. Ci sono delle regole e queste regole vanno rispettate. E guardi, faccio un esempio partendo da una cosa banalissima. Noi nel nostro codice penale, non molti lo sanno, quindi approfittiamo per dirlo anche ai telespettatori, ci sono due reati, per esempio, che guarda caso si incastrano molto bene su quello che è accaduto. Uno è il reato di apologia di terrorismo, che se applicato seriamente, tra l'altro è un reato anche abbastanza grave, ci dovrebbe consentire di cominciare senza mezzi termini, in maniera molto determinata, a perseguire penalmente quegli imam che seminano odio, predicano odio e predicano terrore sostanzialmente nelle moschee o in altri luoghi di culto, senza ovviamente risparmiare chiunque, da qualunque lato e da qualunque area, utilizzi il suo ruolo per poter diffondere e divulgare concetti che possono inquadrarsi come una forma di apologia di reato e soprattutto di apologia del terrorismo. Dall'altra abbiamo tutto un titolo intero del codice penale che tutela il sentimento religioso. Allora ci si chiede, dovremmo cominciare di lì a metterci d'accordo su principio fondamentale della democrazia che non è la libertà ad ogni costo, il principio fondamentale della democrazia è che la mia libertà finisce dove comincia la libertà degli altri. Quindi io per esempio non ho assolutamente condiviso il fatto di appoggiare, come dire, sostenere, cogliendo l'occasione di quelle vittime che ci sono state a Parigi, dire che è stato un attacco alla libertà di stampa o alla libertà di opinione. Qual è stato un attacco terroristico prima di tutto? È stato un attacco terroristico in cui se si potesse fare una graduatoria tra le vittime le prime vittime, le vittime numero uno di quella vicenda sono stati gli ebrei trucidati nel supermercato in maniera veramente da innocenti, sono stati i poliziotti che erano lì solo per fare il loro dovere e poi ci sono i vignettisti di Charlie. Ma enfatizzare troppo in occasione di quell'evento invece l'attacco al diritto di satira a mio avviso è stato un errore sotto molteplici aspetti. Perché se noi accettiamo e facciamo passare l'idea che in nome del diritto di satira e del diritto di opinione tutto sia possibile, allora mi dite con quale coraggio, poi con quale forma di coerenza senza arrivare a conflitti, senza il rischio di arrivare a conflitti sociali potremmo arrestare più un imam che in nome anche lui del suo sacro santo dal suo punto di vista diritto di opinione predica e semina odio e terrorismo. È chiaro, insomma libertà ci vuole però... Ma è un problema banalissimo rispetto delle regole, ci diamo delle regole, le rispettiamo tutti e pretendiamo il rispetto da parte di tutti. Ecco lei nei suoi punti, appunto che dicevo poco anzi, indicava per esempio l'introduzione in Europa del reato di addestramento militare non autorizzato. Assolutamente sì, bisogna cominciare ad anticipare il momento di tutela per le nostre società sanzionando una serie, per esempio noi abbiamo visto oggi c'è stata l'espulsione di nove sospetti jaydisti, c'erano degli elementi che chiaramente deponevano a favore del fatto che questi soggetti si stessero preparando per qualcosa ma non c'erano gli elementi per poterli incriminare, sì invece per poter adottare una misura di prevenzione. Secondo me dovremmo rivedere anche le norme incriminatrici per punire tutta una serie di comportamenti che sono propedeutici e preparatori. Oggi chi si va ad addestrarre, tranne che non si provi la sua appartenenza ad un gruppo criminale, non può essere perseguitato, è assolutamente necessario introdurre uniformemente in tutta Europa questo tipo di reato, per esempio. Poi ci sono una serie di interventi secondo me che devono intervenire proprio sulla cultura, quindi sullo sradicamento di certe forme estreme. A Milano se qualcuno si reca a correre per esempio verso San Siro c'è una scuola islamica e tutte le mattine ci sono le mamme colburca che accompagnano i loro figli a scuola. Ecco, noi dobbiamo favorire l'integrazione ma dobbiamo anche pretendere l'integrazione. Noi non possiamo... Ti parliamo tra un attimo, lo blocco un attimo così, e lo stai rispettatore, un breve break pubblicitario, purtroppo sui tempi televisivi e poi continuiamo a parlare di questa interventazione. Cucciolo Metti in buone mani il tuo sorriso. Studio dentistico Dottor Severio Ferrari Parabita via Milano 2 Brescia. Moderna struttura con personale altamente specializzato, dalla semplice otturazione alla nuova frontiera di implantologia a carico immediato. Prenota la tua visita a nome di RTV, i prezzi più bassi d'Europa, senza spostamenti in altre nazioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Iscriviti subito o chiama per informazioni. Iscriviti subito o chiama per informazioni. Assolutamente. Tra l'altro, come sapete, c'è stato chi ha proposto in Europa la sospensione di accordi di Schengen perché effettivamente, che di fatto sono ormai sospesi già dall'11 settembre del 2001, c'è da quando a seguito di quel problema drammatico che si è verificato con la caduta all'abbattimento delle torri gemelle, di fatto gli accordi di Schengen sono stati sospesi limitatamente al traffico aereo, come sappiamo bene. Il problema è concreto ed è reale perché se è vero che da noi il fenomeno dello jahidista della porta accanto forse è meno preoccupante che in paesi come l'Inghilterra piuttosto che la Francia, la libertà di movimento in Europa deve farci invece preoccupare, deve farci riflettere. Abbiamo per fortuna, devo dire anche dall'altra, che noi abbiamo per fortuna dei servizi di intelligence e delle forze di polizia che sicuramente non hanno nulla da imparare dagli altri paesi europei. Quindi consentitemi di spezzare questa lancia che è frutto di anni anche di cooperazione internazionale. Io spesso, soprattutto quando ero comandante del reparto analisti del Rosso, ho partecipato a diverse riunioni operative con altre forze di polizia europea e devo dire che avevamo molto da insegnare a tutti. Certi, forse da noi tanti fatti non accadono perché non ci rendiamo conto di quanti fatti sono colti, bloccati sul sorgere. Quindi allora ci dice che tutto sommato sotto questo profilo noi italiani siamo abbastanza avanti. Siamo avanti ma non possiamo abbassare la guardia e soprattutto, ripeto, dobbiamo fare i conti col fatto che siamo inseriti in uno scenario aperto come quello europeo e siamo tra l'altro un avamposto importante nel Mediterraneo per cui siamo fortemente esposti da questo punto di vista. Ecco, lei diceva poc'anzi appunto del contesto del Burka, appunto del fatto di nascondersi in luoghi pubblici senza essere naturalmente contro a una religione piuttosto che a un'ideologia eccetera ma di una legge che esiste appunto del divieto di mascherarsi in luoghi pubblici che poi riguarda tutti. Riguarda tutti e lo dice il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Se io vado con un casco in una manifestazione è vietato e costituisce un reato. Lei non lo può fare. Non può andare con un passamontagna, non so, in giro, a passeggio. Va bene. Come se io entrassi in un supermercato con un passamontagna. Certo. La stessa cosa, senza essere contro nessuno. Assolutamente. Tant'è vero che in alcuni paesi, come sappiamo, questo è stato assolutamente vietato. Certo, non è facile dire come facciamo a conciliare il rispetto per le tradizioni religiose di certe religioni con la sicurezza che da noi in epoca non sospetta perché il testo unico è del 31, 1931, ha previsto un divieto di girare mascherati in pubblico. Allora, dobbiamo metterci d'accordo, cioè, altrimenti cadiamo nella solita anomia, no? Anomia significa senza norme, di fatto, dove le norme ci sono ma vengono applicate per alcuni, guarda caso, per gli italiani sempre, no? E non per altri. Questo mi ricorda tanto, vi racconto questo aneddoto, anni fa, quindi ben lontani dai fenomeni attuali, ero da tenentino incaricato di presiedere lo spostamento di un campo nomadi a Roma da un quartiere ad un altro quartiere e la mattina, mentre le donne di questi nomadi si sistemavano all'interno del nuovo campo allestito di tutto punto dal Comune di Roma che aveva speso anche un bel po' di soldi, alcuni miei carabinieri controllavano gli uomini che uscivano con le solite macchine, con puntualmente la matricola del telaio a brasa, va bene, o contraffatta, per andare a fare quello che tutti sanno ma nessuno vuole dirlo apertamente, quello che vanno a fare in giro i nomadi quando escono in 4-5 i rom, quando escono in gruppi di 4-5 a bordo di macchine peraltro rubate, no? Va bene, e quindi i miei carabinieri fermavano queste macchine all'ingresso col carattrezzi, le sequestravano e i nomadi venivano portati in caserma per essere denunciati per ricettazione. Ecco, io fui attaccato dall'opera Nomadi e da alcuni articoli di stampa il giorno dopo ed etichettato addirittura come nazista per aver semplicemente preteso che le regole fossero applicate per tutti perché non capisco per quale ragione ci debba essere del protezionismo a tutti, così come non ci devono essere dei pregiudizi ma non ci devono nemmeno essere zone franche ed etnie protette soltanto in virtù di... C'è una legge che insomma va utilizzata per tutti. Le leggi vanno applicate, punto, questa è la regola fondamentale, chiunque siano i destinatari, che siano italiani, che siano tedeschi, che siano inglesi, che siano arabi, che siano cinesi. E in questo articolo parla anche, poi vedo Roberta che vuole fare una domanda, parla anche appunto del discorso, se tanto discusso, del crocifisso nelle scuole. Mettiamolo, togliamolo, cioè insomma... Ma anche lì io trovo veramente una profonda contraddizione, cioè da una parte sosteniamo Charlie Hebdo, no? E la satira spinta oltre ogni misura, con degli attacchi anche diciamo molto molto pesanti anche nei confronti della nostra fede religiosa, di cristiani. E dall'altra però diciamo togliamo il crocifisso, non facciamo fare il presepio ai bambini, perché offende il sentimento religioso, cioè noi stiamo veramente cadendo in forme di schizofrenia culturale assolutamente inaccettabili, cioè stiamo perdendo veramente la bussola come occidentali, no? Allora, quelle sono le nostre tradizioni e la nostra identità culturale. Non fa male a nessuno, perché sono messaggi buoni e messaggi di pace. Io sfido a trovare un musulmano dotato di buonsenso, va bene, che si senta offeso di fronte ad un crocifisso o di fronte ad un presepio. Se si sente offeso, beh, se ne torni a casa sua, perché probabilmente non abbiamo bisogno di guerra fondai o di persone che si sentono offese per questo genere di messaggi. Tra l'altro poi mi pare di aver sentito anche in tv, su altri canali, insomma, islamici che hanno detto che sono presepio. Assolutamente, assolutamente. Decisioni sui fastidi, insomma. Ma assolutamente, ma a volte siamo più noi che, o una parte di noi, diciamo, che cadiamo nel ridicolo. Perché se parliamo con musulmani, quelli che sono qui, vivono, lavorano e così via, di buonsenso ce n'hanno quanto noi, insomma, quanto le persone di buonsenso che vivono, degli italiani di buonsenso, insomma. Roberta. Viver dai infiltrati, cosa significa? Mi sta riportando indietro nel... È stata un po' la sua carriera? Beh, non è stata proprio la carriera, per fortuna, perché è stata un'esperienza limitata, durata un paio di anni. È stata un'esperienza molto, molto interessante perché ti consente di vedere un po' molto da vicino, diciamo così, il criminale, il trafficante di droga, anche nel suo aspetto umano. Cioè, lui si rapporta con te, a te, come collega, da criminale a criminale, e quindi tu ne scopri tutti quei risvolti umani che altrimenti non potresti notare facendo, trattandolo solo nelle vesti di ufficiale di Polizia Giudiziaria o Colonnello dei Garabinieri. Chi lavora nel ROS è personale, suppongo, scelto? Sì, è personale selezionato che deve frequentare un corso specifico all'esito del quale può permanere o meno nelle strutture anticrimine. È personale che viene addestrato anche per, diciamo, per reagire a situazioni di forte stress, quali, per esempio, situazioni in cui si è infiltrati che sono, per definizione delle situazioni, altamente stressogene, diciamo così. Oggi ci sono moltissime donne, anche in ROS, che stanno dando prova di grandissima capacità, ci volevano. Ci sono dei carabinieri donne molto, molto in gamba e che in qualche modo anche aiutano questo tipo di attività, perché la presenza femminile anche in attività investigative, nei pedinamenti e così via è molto importante. Poi ci danno proprio quel di più che solo le donne sono in grado di dare in termini di intuizione che sicuramente è superiore a quella maschile. Capitano ultimo, cosa ne pensa? Capitano ultimo, ossia oggi il colonnello Sergio De Caprio è un amico con cui abbiamo condiviso tante cose. Abbiamo, a cominciare dalla scuola militare Nunziatella, che abbiamo frequentato negli stessi anni, quindi la mia conoscenza con Sergio De Caprio risale ormai al 1978. Abbiamo condiviso delle attività investigative sia sul fronte siciliano che sul fronte calabrese. È un integralista dell'investigazione. È una persona veramente integra a 360 gradi. Ecco, io sarebbe parlarne per giornate di queste argomentazioni. Vorrei farle un'ultima domanda che riguarda tanto in questi giorni mi pare diversi siti se non sbaglio francesi sono stati hackerati appunto da si parla di terrorismo cibernauta insomma si parla di minaccia web deep web appunto lei lo ha definito appunto un tracciato nascosto che riguarda il web dove che cosa accade? C'è un commercio di armi piuttosto che la nuova frontiera con cui ci dovremmo confrontare nell'imminente futuro giusto per dare dei dati ai telespettatori quello che rappresenta il normale mondo su cui noi navighiamo nel web rappresenta solo il 4% del totale il 96% è il deep web deep web a cui si accede con dei software particolari che è caratterizzato dal fatto di garantire una navigazione non tracciata proprio per questa ragione ormai il deep web è popolato da tutti i criminali possibili e immaginabili nel deep web si vende droga si vendono informazioni riservate documenti falsi si vendono armi si vendono si vende esplosivo il pagamento di questa merce illecita si vendono servizi illeciti quando parlo di servizi illeciti intendo dire che si vendono servizi come il killeraggio va bene l'acquisto di questi prodotti avviene in bitcoin che è una moneta elettronica che in Italia non è ancora regolamentata in altri paesi europei sì e ovviamente per fortuna oltre che da un esercito di criminali il deep web è frequentato fortemente anche da un esercito di agenti sotto copertura servizi segreti e forze di polizia che sono a caccia appunto di questi criminali una sorta di infiltrato a livello di internet praticamente infiltrato cibernetico cibernetico perché è così difficile riuscire a trovare questi criminali insomma da quanto espone mentre la normale navigazione internet è tracciata da un indirizzo IP come tutti sapete per cui dall'indirizzo IP è possibile risalire poi attraverso i passaggi successive delle investigazioni successive all'identità di colui che ha navigato in certi siti che ha effettuato certe operazioni cioè ogni nostro movimento su web lascia una traccia una traccia invece il deep web è caratterizzato dal fatto che si perdono le tracce della navigazione proprio per questa ragione si è trasformato in un mondo sommerso al servizio di ogni forma di criminalità ho capito la salta di sottovosco insomma e questo che appunto c'è qualche operazione in merito per migliorare questa falla oppure ma purtroppo non c'è nessuna possibilità di migliorare questa falla perché è la struttura stessa tecnologica del deep web che è fatta così per cui non c'è modo di rimediare tra l'altro giusto per una notazione così di cronaca il deep web cominciò a nascere durante sia la primavera araba che durante grosse le forme di repressione che ci furono in Cina a cominciare da Tiananmen proprio per consentire comunicazioni non tracciate tra dissidenti nei confronti dei governi e così via e in parte anche qualcosa a Cuba quando era assolutamente vietata la navigazione internet purtroppo si è trasformata da qualcosa di positivo in un'arma potentissima al servizio di ogni forma di criminalità bene io ringrazio allora il dottore Angelo Iannone per questo suo intervento qui alla domenica in famiglia insomma raccomandazione che tutti noi stanno a cuore insomma la sua è un'esperienza bisogna dire straordinaria insomma a servizio appunto del bene comune e lo aspettiamo magari appena è in pubblicazione il prossimo punto libro diceva Toghe scusi il titolo se ricordo Toghe a Lucirosse a Lucirosse ecco perfetto niente a che vedere con riferimenti politici ma semplicemente una vicenda è una vicenda reale di cronaca vera sottaciuta un po' dai media dove sullo sfondo anche la morte di due giovani che viene da me raccontata invece in forma romanzata e tra poco insomma sì 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 è questione credo di qualche mese qualche mese ci tengono informati grazie ancora e buona giornata